Intanto avevo la necessità di acquisire conoscenze inerenti agli eventi culturali, alla promozione corretta di un evento culturale e poi man mano che gli studi si sono avanzati ho preso anche molto interesse per la promozione delle destinazioni culturali perché sono un insieme di cose, quindi una destinazione che racchiude eventi, racchiude una promozione, azioni di marketing, azioni di comunicazione, azioni a 360 gradi, analisi statistiche, interviste, focus group, quindi diciamo che da un inizio percorso ho cominciato a cambiare anche in un certo senso interesse anche se in realtà è il medesimo interesse solo ampliato.